Iniziamo grazie della presenza che abbiamo stimolato per presentare un'iniziativa molto importante che il Presidente Acquaroglia ha da sempre ritenuto centrale per quanto riguarda l'azione del Governo regionale. Voi sapete che il tessuto imprenditoriale delle marche è un tessuto prevalentemente composto da piccola e piccolissima impresa, spesso e volentieri soprattutto di questi tempi il problema della dimensione può determinare difficoltà di accesso al credito per la più complessa condizione di bancabilità che deriva dalle dimensioni micro imprenditoriali e quindi da questo punto di vista abbiamo ritenuto di intesa che i nostri uffici investire in maniera molto importante sulle disponibilità e sulle opportunità che ci offre la legge sul microcredito. Il microcredito, mi sia consentito la precisazione un po' scolastica, è il microcredito sociale che si riferisce a situazioni di fragilità personale che si accompagna quindi a una tematica che esula dalle dinamiche imprenditoriali. Poi c'è il microcredito imprenditoriale che si caratterizza non solo per le condizioni di particolare facilità, flessibilità e opportunità di accesso al credito ma anche perché si fonda su un'assistenza che viene garantita da chi gestisce questi fondi così che prima ancora dell'erogazione ci sia un accompagnamento, un tutoraggio, un'assistenza che inevitabilmente risulta preziosa proprio perché non sempre le piccole e piccolissime imprese riescono ad avere chi le consiglia, chi formula a prezzi competitivi attività di consulenza. Quindi da questo punto di vista abbiamo voluto mettere in campo una cifra considerevole da parte della regione poco meno di 4 milioni di euro a cui si aggiungono le disponibilità dei soggetti gestori che saranno coloro i quali iscritti in un preciso albo ministeriale che li abilita a fare questo tipo di lavoro dovranno garantire quindi quell'assistenza di cui si diceva, quell'accompagnamento, quella prossimità imprenditoriale e anche delle risorse che si aggiungono a quelle regionali. Noi abbiamo fatto un bando, abbiamo lanciato un avviso pubblico ed è stato raccolto il nostro invito da un ATI composta da Fili Persona che è una società cooperativa che nasce, se mi è consentito, dalla calassia di Confidi Unico, abbiamo Paolo Silenzi e dalla fondazione Ottavo Sgaridia dal Monte che è una fondazione emanazione, la fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Pisceno che iscritti a quell'albo si sono messi in campo e hanno voluto accettare la nostra proposta. Io non entro nel merito delle singole condizioni, magari lo faranno i nostri amici però diciamo che con una somma che è di poco inferiore agli 8 milioni i presidenti circa 400 piccole e piccolessime imprese potranno avere la possibilità di prestiti a tassi assolutamente agevolati e che potranno beneficiare soprattutto di quel tutoraggio, di questo consiglio di cui c'è massimamente bisogno perché quel 97% di imprese piccole e piccolissime marchigiana deve affrontare i marosi della crisi energetica, della crisi internazionale che deriva dai notifatti. Insomma c'è bisogno di chi sape indicare obiettivi e finalità a chi invece mette in campo se stesso anche con rischi significativi. Sappiamo tra l'altro e concludo che proprio questa strada, questo segmento del credito che è il microcredito ha ricevuto un'attenzione particolare della legge di bilancio del 2022 che ha aumentato anche le possibilità di azione a testimonianza di come il tema dell'indebitamento, il tema della bancabilità rimangono fra le grandi questioni nodali del nostro sistema imprenditoriale. Detto questo do la parola a Eleonora, i nostri, se mi è consentito, amici di Fidimpresa e l'Ostavio Sgarita del Monte. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio innanzitutto il Presidente Acquaroli per essere presente, ringrazio l'Assessore Castelli e saluto il collega Longino. Noi come ha detto l'Assessore Castelli in premessa abbiamo una finalità, una finalità importante, una finalità importante perché il servizio che noi facciamo, l'erogazione di questo credito non è solamente un'erogazione creditizia ma è anche un'inclusione sociale da parte di quelle persone che bene o male vogliono riconvertire, vogliono riqualificare la propria posizione lavorativa e quindi proprio in questo periodo in cui ci sono delle forti criticità che tutti conosciamo sotto il profilo economico dare una mano a queste attività è la nostra mission. Le diamo ovviamente a soggetti, come si diceva prima, non bancavoli che hanno un patrimonio esiguo, sono delle start-up, sono delle attività che nascono magari sull'intuzione di piccoli imprenditori che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale. Una differenza è proprio quella che diceva l'Assessore, cioè non è che noi eroghiamo il chirografario e poi magari salutiamo l'imprenditore ma siamo i compagni di viaggio in questo che è l'inizio della sua attività imprenditoriale. Lo facciamo attraverso un tutoraggio, quindi noi per tutta la durata del chirografario, del finanziamento andiamo ogni anno a trovare l'azienda, controlliamo magari l'attività, la gestione dell'attività economica che fanno magari durante l'anno, facciamo i break even point e quindi cerchiamo di essere anche dei consulenti per arrivare appunto a determinati obiettivi. Il limite che Fili Persona ha avuto fino adesso, Fili Persona nasce nel 2013 sul volere delle principali associazioni di categoria della regione Marche, il nostro limite era proprio il funding. Il funding perché? Perché noi ovviamente per erogare microcredito abbiamo bisogno appunto di liquidità e questa liquidità a volte magari è stata sempre un po' limitata e abbiamo appunto limitato l'attività di questo ente fino adesso. È ovvio che la liquidità che mette a disposizione la regione in questo momento ci dà un grande booster per poter riuscire, ma non solo questo. Noi possiamo, abbiamo scommesso su questa fiducia che la regione ci ha dato appunto costituendo un equity attraverso quest'ati fatta con la Fondazione Sgariglia, quindi noi rilanceremo mettendo magari sul piatto la stessa cifra che mette la regione Marche. Quindi dai 4 milioni che la regione Marche ci darà durante il triennio 2021-2023, noi bene o male metteremo attrettanti 4 milioni. Quindi ecco, questo per il desiderio di voler crescere, di dare un servizio a quella che è l'attività economica dei nostri territori e bene o male anche fiduciosi appunto di poter dare un ottimo servizio. È ovvio che quest'equity vuol dire trovare funding sul mercato e quindi un supporto fondamentale appunto all'erogazione del microcredito, ce lo darà il Confedio Unico appunto dandoci una grossa mano per quanto riguarda appunto la messa a disposizione di queste ulteriori risorse e quindi come si diceva noi a questo punto nel triennio 2022-2023-2024 saremo in grado di bene o male erogare più di 7 milioni di euro. Considerate che in questo momento ogni anno eroga intorno a 1 milione e 4, 1 milione e 5 e quindi vorrebbe dire fondamentalmente più o meno raddoppiare quella che è l'erogazione appunto di questo servizio. Per questo siamo soddisfatti soddisfatti perché non solo perché abbiamo a disposizione questa grande liquidità ma siamo soddisfatti anche perché bene o male l'accesso a queste risorse da parte dell'attività economica e da parte di questi piccoli imprenditori appunto verrà fatta a un tasso agevolato diciamo quindi il costo per l'erogazione di questi crografari sarà nettamente inferiore rispetto magari a quello che era l'ordinario per quanto riguarda l'erogazione di questo servizio. Questo perché? Perché i soldi messi a disposizione della regione appunto hanno, non hanno un tasso diciamo, sono a titolo tra virgolette gratuito, è ovvio che con una tornazione vanno restituiti però non costano niente per quanto riguarda gli enti di micocredito e questo ci permette di abbattere una buona dose di TAEG a vantaggio appunto di chi andrà a richiedere questo micocredito. Quindi un micocredito che sarà fortemente più agevolato rispetto a prima avrà un costo sicuramente inferiore rispetto a prima e quindi ecco si dà non solo all'ente di crescere ma come ripeto prima darà molte possibilità appunto a tanta gente di poter attivare un'attività di impresa. Chi sono i beneficiari del micocredito diciamo perché non tutti possono accedere, vado avanti, sono professionisti iscritti all'albo o nell'elenco tenuto dal mese, imprese individuali, società di persone, SRL semplificate e società cooperative con sede nella regione Marche diciamo. Poi bisogna, i requisiti dei beneficiari devono avere un numero di 5 dipendenti in caso di professionisti o imprese individuali e 9 dipendenti in caso di società di persone, SRL semplificate e società cooperative. Possedere una partita IVA non più vecchia di 5 anni, deve essere iscritta ovviamente alla Camera di Commercio e essere regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali e quindi la regolarità del DURC. Devono avere un attivo patrimoniale non superiore a 300 mila euro negli ultimi tre esercizi, avere ricavi non superiore a 200 mila euro negli ultimi tre esercizi e avere un indebitamento non superiore a 100 mila euro. Quindi le finalità sono tutte, quindi le finalità per accedere al microcredit sono tutte con esclusione del consolidamento del debito. L'importo massimo come dicevamo prima è 40 mila euro più 10 mila euro se si arriva agli obiettivi prefissati in fase di stipolo appunto del chilo da fare eccetera. Abbiamo un tasso fisso di 2.75%, la durata massima può essere di 84 mesi, inclusi eventuali pre-ammortamento di 12 mesi, spesi istruttori di 2.2% calcolate sull'importo richiesto, costo di servizi esiliari come dicevamo prima del monitoraggio e tutoraggio va da 50 euro a 325 euro all'anno in base appunto all'importo. Queste sono appunto delle tariffe che noi abbiamo ovviamente abbassato di molto, di quello del tag per quanto riguarda l'erogazione del microcredit e quindi siamo sicuri che, anzi siamo ottimisti che bene o male la gestione di questo fondo porterà appunto a uno sviluppo economico importante per quanto riguarda le PMI e daremo prova appunto che saremo degli ottimi gestori di questa importante liquidità. Grazie. Buonasera, grazie Presidente, grazie Guido Castelli, ciao Paolo. Quello che dobbiamo fare è stato detto in modo efficace e sintetico da Paolo Silenzi e lo faremo, lo faremo con questa assunzione di responsabilità di cui sentiamo l'onere ma siamo anche orgogliosi di poterlo fare. Quello che dobbiamo fare e come dobbiamo farlo, lo ha detto Paolo, io colgo invece un aspetto molto molto importante, non invece, aggiungo, colgo un aspetto molto importante che per noi del sud delle Marche questa partecipazione al fondo che la Regione ha messo in campo grazie all'iniziativa di Guido Castelli che prima l'ha pensata e poi l'ha concretizzata, del quale veramente gli siamo molto grati, per noi ha un valore doppio. Perché ha un valore doppio? Perché noi, Fondazione Ottavio Sgarriera al Monte, operiamo nel territorio dei comuni di influenza della Fondazione Carisap con i fondi, eroghiamo a microredito, con i fondi messi a disposizione della Fondazione Carisap. Il fondo della Regione che da adesso ai prossimi tre anni in una visione statica, poi in una visione dinamica magari avranno anche altri tempi, i tempi saranno più dilatati, consentirà di liberare le risorse da parte della Fondazione che diversamente doveva investire nelle nostre erogazioni per fare quello che è lo scopo sociale della Fondazione che è un welfare di comunità, cioè noi cogliamo l'aspetto tecnico, bancario, economico, ma anche l'aspetto della solidarietà, del sostegno e queste sono le due anime che animano l'azione della Fondazione Ottavio Sgarriera al Monte. Per questo dico che vale doppio questa partecipazione a questo fondo regionale e ne siamo veramente orgogliosi, perché riusciamo a dare l'aiuto, a creare un effetto moltiplicatore nel nostro territorio per le nuove iniziative e lo facciamo con un valore doppio, perché quello che mettiamo in campo, che viene dalla Regione, consente alla Fondazione Carisap, che è la nostra dante causa, di continuare, liberando le risorte che avrebbe dato a noi, continuare nel suo scopo istituzionale. Quindi bene, grazie e buon lavoro a tutti. Presidente, grazie Rugino. Io ho un saluto veramente finale, un ringraziamento all'assessore Castelli, a tutta la struttura e ai partner che si aggiungono in questa fase particolare. Quella che viviamo sicuramente, credo che dal dopoguerra ad oggi nessuno possa dire qualcosa più complicata, perché è un po' la crisi del 2008, poi il sisma, poi la pandemia, oggi anche le sanzioni che già erano, soprattutto in alcuni comparti specifici, avevano portato delle problematiche enormi. Oggi lo scenario, non lo sto per niente neanche a citare, perché credo che non ci sia bisogno, diventa veramente complicato. E a soffrire di più sono tutti, però le piccole e medie imprese non hanno a volte una risposta, non hanno un interlocutore, anche perché per dimensione, alcune sono veramente piccolissime a carattere familiare, se non a carattere individuale, hanno delle difficoltà enormi che non possono sostenere. Non possono sostenere la quotidianità, ma non riescono neanche a sostenere la possibilità di accrescere la propria potenzialità competitiva. In questo senso credo che iniziative come questa hanno il plauso di andare incontro a quelle che però sono la struttura portante della nostra economia. La nostra è una ragione fatta da piccoli territori, da piccole dimensioni, dove benvenuti sono i grandi gruppi e i grandi anche player che riescono a garantire occupazione e forza, ma l'asse portante è costituito proprio da queste piccole e medie imprese che soffrono tantissimo in tante vicissitudini. Quindi è un'iniziativa molto importante, è un'iniziativa volta a garantire il massimo supporto possibile e devo dire che è una delle tante iniziative che stiamo prendendo, perché in realtà ce ne sono tante altre che insieme a questa cercano di accompagnare questa crisi difficilissima. Mi fa piacere anche trovare un riscontro importante alle parole che ho sentito, perché significa che quello che stiamo cercando di fare trova anche un plauso, una condivisione e questo è importante perché non sempre avviene. Invece possa essere uno dei specifici presupposti che può garantire il risultato finale. Quindi questo a mio avviso è anche molto importante. Quindi grazie e buon proseguimento di giornata se non ci sono domande specifiche.